Non succede perché non succede, ma se succede ragazzi miei, ciao, di che sto a parlare, Marez, AS Roma, la possibilità di una trattativa che potrebbe eccitarsi a tal punto fino a portare appunto uno dei miei giocatori preferiti ma anche del mio fratello proprio nella nostra squadra del cuore. Che cosa vi voglio dire? Siccome oggi Sickwolf, il mio caro amico Sickwolf, ha fatto un video in cui ci ha lanciato una specie di sfida, di proposta, secondo cui qualora Marez dovesse realmente arrivare alla Roma dovremmo andare da casa sua fino a Fiumicino in bicicletta. Caro Sickwolf io ho un'idea migliore che è ancora più infame ma che secondo me sarebbe la ciliegina sulla torta per festeggiare appunto con un acquisto del genere. Stamme bene a sentire perché senti che voglio fare se compramo le magliette della Lazio e facciamo una live reaction insieme su una partita della Lazio e ovviamente la tifiamo a squarciagola. Secondo me è un'infamata di quelle incredibili perché siamo tifosi della Roma ma dobbiamo entrare nella parte proprio perché un acquisto come Marez merita una penitenza tra virgolette di questo tipo. Che cosa ne pensi? Fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti se ci avete qualche gesto ancora più eclatante da suggerirci in caso appunto di un trasferimento del genere. Tanto sono sicuro che non succede per quello l'ho sparata così grossa. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Aspetto la risposta dei Sickwolf perché voglio vedere quello che mi dice sarebbe glamoroso. Voi immaginate a fare tutti la live reaction con le maglie della Lazio? Non lo so immaginare. Bella! Grazie!